La prova del 9 a fine settimana. La Liguria in anticipo di sette giorni rispetto alle altre. Auguriamoci che non accada nulla e incrociamo le dita. Se andrà tutto bene lunedì 18 apriranno altri esercizi e poco a per volta, insomma fidandoci al destino, alla divina providenza e speriamo che tutto torni alla normalità. Il Presidente del Consiglio ha annunciato agli italiani che le vacanze si potranno fare e questo pare che sia un momento di particolare positività. Di fronte alla possibile debacle del turismo, gli operatori si stanno dando da fare, si organizzano dagli alberghi ai ristoranti, agli stabilimenti balneari, ma anche i comuni si stanno dando da fare per richiamare turisti, lanciando campagne per una nuova immagine del territorio. In più si affidano ai social per giungere in maniera più tempestiva al possibile fruitore di spiagge e chiaramente di mare. Ad Alassio l'impegno è del Presidente del Consiglio Comunale e responsabile delle manifestazioni. L'avvocato Massimo Parodi ha infatti rilanciato la città del Muretto all'insegna di un filmato realizzato da una società di creativi più alla moda. Alassio appare in tutta la sua bellezza, pronta a ripartire alla nuova formula dell'ospitalità che prevede culture e spettacoli nel segno della sua fondatrice, almeno così dice la leggenda Adelasia.